In avanti, Udinese comunque guarda a se stesso, attenzione, Sosa, 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 goooool, Sosa, El Pampa, El Pampa, gol, Roberto Sosa, incredibile amici, due a due, tutti ce fanno, Roberto El Pampa Sosa, è incredibile, è una liberazione, Roberto Sosa come in un film, come in un film, primo gol, pareggio contro i campioni d'Italia, incredibile, l'ha scritto Hitchcock, grande, grande, grande Sosa, gol che pareggia questa partita che l'Udinese non meritava, ripeto, di tempo, è stato ammonito Sosa, non ce ne importa niente.